L'oro è da sempre simbolo di ricchezza e di potere e continua ancora oggi ad esercitare quel fascino irresistibile, se vogliamo, sugli investitori. Ma investire in oro nel 2024 con i prezzi che hanno toccato nuovi massimi è una cosa sensata da fare, cioè vale la pena farlo oppure è una scelta totalmente sbagliata? In questo video esploreremo insieme le ragioni per cui molti investitori, compreso me, puntano ancora sul metallo prezioso, sul metallo giallo, anche in una situazione un po' particolare come questa. Analizzeremo i fattori che ne influenzano il prezzo e soprattutto ti fornirò tutti gli strumenti per poter analizzare in autonomia l'andamento dell'oro e di conseguenza poter prendere delle decisioni più informate. Ma sopra ogni altra cosa risponderemo alla domanda delle domande. Conviene ancora comprare oro oggi ai massimi? Ti dico già in anticipo però poi andremo ad analizzare meglio più avanti in questo video dove compro personalmente l'oro. Principalmente compro oro fisico tramite Gold Avenue. Ti lascio qua sotto il link in descrizione o cliccando il banner che ti comparirà qua potrai andare a vedere effettivamente qual è la loro offerta. Compro oro in modo digitale se vogliamo tramite un'esposizione con ETF fatta su Trade Republic, anche in questo caso ti lascio il link. Un'esposizione tramite aziende che lavorano nel mercato dell'oro e infine un'esposizione tramite asset tokenizzato, il famoso PAX Gold. Ho fatto comunque dei video dedicati e ti rilascio qua sotto linkati nella descrizione di questo video. In realtà avevamo già risposto a questa domanda se convenisse o meno comprare oro ai massimi e avevamo risposto l'anno scorso se non sbaglio un anno e mezzo fa più o meno insomma quando l'oro era effettivamente ai nuovi massimi. Avevo creato un video, avevo fatto un video dove avevo detto questa è la situazione dell'oro e ai massimi personalmente continuo a comprare perché mi aspetto questo tipo di situazione a livello globale ed effettivamente col senno di poi l'investimento è andato bene, è andato molto bene perché l'oro ha continuato a stampare nuovi massimi. Ora ciò che è successo non significa che ciò che succederà ancora perché è vero che ha fatto di nuovo nuovi massimi tutto quello che vogliamo però non vuol dire che in futuro continuerà a fare nuovi massimi anche perché c'è una cosa estremamente importante da considerare quando si parla dell'oro. Ed è il fatto che è estremamente complesso comprenderne le dinamiche o meglio cercare di prevederne l'andamento. Come dice anche Buffett che non ama investire in oro proprio per questo motivo qua lui preferisce andare a lavorare su azioni perché? Perché riesce tra virgolette a prevederne un po' l'andamento analizzandone il bilancio, guardando la leadership, guardando i dati numerici, il cash flow di quelle aziende riesce a comprendere bene o male come sta andando il business e come potenzialmente potrà andare rispetto a quello che è il mercato o no in generale. D'altra parte investire in azioni produce anche dei dividendi tendenzialmente quindi un cash flow, cosa che l'oro invece non fa. Ecco perché Buffett preferisce andare su questo reparto piuttosto che sull'oro. E sull'oro cosa succede? Beh sul loro non ci sono bilanci da analizzare se non quello delle aziende che lavorano nell'oro ma lì si rientra poi di nuovo nello stock market. Quindi che cosa si può vedere sull'oro? Beh l'oro è influenzato da una dinamica quella della domanda e dell'offerta. Tutto ciò che possiamo fare noi è analizzare la domanda e offerta di oro quindi la richiesta di oro e d'altra parte analizzare i costi di produzione quindi costi di estrazione, la quantità disponibile. Quindi questi sono i dati che possiamo analizzare effettivamente per poter tracciare idealmente un potenziale target sul nostro investimento in oro. E' sicuramente molto più difficile fare un'analisi. D'altro canto basandoci su quelli che sono stati i rendimenti fino ad oggi dell'oro quindi l'aumento di prezzo dell'oro diventa relativamente semplice di controparte esporsi all'oro. Cioè si può chiaramente vedere aprendo un qualsiasi grafico come il trend dell'oro sia in crescita quindi il prezzo dell'oro sia in crescita e cresce di pari passo con la velocità della svalutazione del denaro e con la velocità, l'escalation di problemi legati appunto a quello che è il debito. Quindi più la crisi del debito aumenta più l'oro tecnicamente va a salire di valore. Perché? Perché viene visto da molti, dalla maggior parte di investitori, come una riserva di valore. Un modo per parcheggiare liquidità per cercare di evitare di farsi bruciare i propri fondi in tasca dall'inflazione. Quindi diciamo che su orizzonti temporali, personalmente mi posiziono appunto su orizzonti temporali lunghi, quindi 20-30 anni. Ovvio è che in questi orizzonti può succedere di tutto ma tendenzialmente il prezzo dell'oro dovrebbe aumentare. Questa però chiaramente è una mia personale opinione che mi porta ad espormi nell'oro. E abbiamo parlato di riserva, arriviamo quindi alla nostra prima parte di questo video, il nostro primo capitolo in cui parliamo di che cosa? Parliamo proprio dell'oro come bene rifugio. L'oro è spesso indicato con questo termine, con l'idea di bene rifugio. Ma cosa significa effettivamente bene rifugio? Quello che fa l'oro, soprattutto per i grossi investitori, è mantenere il patrimonio nel proprio portafoglio. Storicamente infatti, come abbiamo visto, l'oro tende a mantenersi saldo durante i periodi di incertezza o addirittura a crescere di valore. Quindi tecnicamente va un po' controcorrente rispetto a quello che è l'andamento del mercato. Tendenzialmente quando i mercati sono in rosso, l'oro invece tende a performare bene. Con mercati intendo i mercati azionari. Questo chiaramente non sempre, però tendenzialmente sì. Quindi quando ci sono un po' di turbolenze sui mercati, l'oro diventa un'ottima ancora di salvezza per tantissimi investitori. E un esempio è quello della Cina, di pochissimo tempo fa. Anzi, in realtà ancora attuale come esempio. La Cina ha subito, basta aprire un qualsiasi grafico del mercato azionario cinese, la maggior parte di azioni come Alibaba, come Baidu, JD.com, insomma tantissime azioni cinesi sono un po' collassate come valore, come prezzo. Dovuta tutta una serie di cose che non andiamo ad analizzare in questa fase, però di fatto c'è stato il mercato azionario cinese relativamente in crisi e il mercato immobiliare cinese relativamente in crisi ancora una volta. In queste fasi il prezzo dell'oro è salito tantissimo. Perché? Perché il governo cinese sta accumulando un sacco di oro ma da ormai tanto tempo. D'altra parte anche il retail, quindi le persone comuni, hanno iniziato ad accumulare pesantemente oro. Perché ovviamente con il mercato che va giù azionario, con il mercato immobiliare che va giù, cosa restano? Restano sì, magari bitcoin, resta l'oro e poca altra roba. Di conseguenza cosa hanno fatto? Si sono andati a esporre su quella che per loro era una riserva. In questi momenti incerti siamo andati sulla nostra riserva, quindi sull'oro. Ed ecco perché l'oro sta effettivamente continuando la sua escalation di prezzo. E questa cosa in piccolo in Cina può essere riportata poi in tutto il mondo, perché è un pochino come ragiona l'investitore medio. Un altro esempio è la crisi del 2008, o ancora una volta la pandemia. Quindi l'oro è da sempre uno degli asset immancabili, se vogliamo, da tenere nel proprio portafoglio. E questo vale sia per i retail, sia per i grossi investitori. Ci sono nomi famosi ormai come Kiyosaki. So when the dollar crashes, I get richer. And that happens time and time again. Going to happen now. This today is about $35 US. This is about $2,000. So being a capitalist, I own gold mines and I own silver mines. So when the dollar crashes, I get richer. When do you think it will happen? It's happening right now. America is sliding into a depression. Russia, China versus America. It's the biggest battle in history going on today. And the dollar is going to lose. So if you read Rich Dad Poor Dad, I said I don't work for money, I work for gold and silver. I do not save dollars. I save gold and silver. Come daglio. You recommend that most portfolios should contain some gold. The best way to structure a portfolio is is to have the right kind of balance in your portfolio. So and some amount of gold. Gold serves a purpose. Che parlano costantemente di quanto sia importante avere l'oro in portafoglio. Passiamo a questo punto al capitolo 2 di questo video. Imparare ad analizzare i fattori che influenzano il prezzo dell'oro. Perché vedi ovviamente come ogni cosa il prezzo dell'oro non è un numero casuale, non è un numero buttato lì. È influenzato di fatto da una serie di fattori. E questi fattori interagiscono tra l'oro andando poi come risultato a dare quello che è il prezzo dell'oro. Mi piace infatti considerare un po' l'oro come un barometro economico. Un qualcosa che misura ciò che succede nell'ambiente e che di conseguenza reagisce a quelli che sono i cambiamenti nell'ambiente circostante. Quali sono a questo punto i fattori nell'ambiente circostante che influenzano il prezzo dell'oro? Primo fattore importantissimo, i tassi di interesse. Per comprendere bene il concetto di tassi di interesse ho fatto diversi video in cui ne parlo, però per renderlo molto più semplice in questo video, pensa ai tassi di interesse come al prezzo del denaro. Perché dico il prezzo del denaro? Perché obiettivamente quando i tassi di interesse sono bassi si può prendere in prestito denaro a basso costo. Di conseguenza il denaro tende a costare meno. Questa è liquidità che entra sui mercati, quindi quando vengono contratti i prestiti, e beh da qualche parte deve andare. Le persone sono infatti in questa fase incentivate a far che cosa? A prendere in prestito per comprare case, per comprare terreni, per comprare beni come può essere un'auto nuova, il televisore, insomma qualsiasi cosa diventa molto più accessibile grazie a un credito, quindi grazie a un prestito che riceviamo che è molto più economico da ripagare. E quindi si va in quello che si chiama il boom. Perché le persone si indebitano avendo un costo dell'indebitamento basso e iniziano a comprare. D'altra parte le azioni iniziano a lievitare. Un po' perché c'è chi utilizza il denaro per investire sul mercato azionario, un po' perché effettivamente i mercati, le azioni che sono, ricordiamo, aziende, hanno nuovi clienti. Di conseguenza tende a salire un po' tutto. Questa liquidità fluisce e arriva sui mercati. In questa fase le persone comuni tendono a investire più su asset rischiosi, appunto come le azioni o come le cripto. Di conseguenza tendenzialmente in queste situazioni il prezzo dell'oro tende a stagnare o addirittura scendere. Perché? Perché è molto più interessante in questi casi investire su asset class che performano meglio, che hanno delle crescite percentuali più interessanti rispetto che tenere denaro parcheggiato nell'oro. Poi ci sono investitori come me che invece tendono ad andare sul lungo termine. Quindi non mi interessa il ciclo che fa avanti e indietro tra un boom e una recessione, ma mi interessa sul lungo termine scommettere sull'oro. Perché? Perché credo che l'oro sia un denaro migliore rispetto che il denaro fiat. Il denaro fiat tradizionale, euro, dollaro, è quello che utilizziamo tutti i giorni. È un denaro progettato per svalutarsi. Un denaro basato proprio sul debito, sui tassi di interesse. Viene manipolato con i tassi di interesse. L'oro invece penso che sia una riserva di valore e un denaro molto più forte rispetto il denaro fiat. Ecco perché una parte di quello che è in camero dalle mie attività lo parcheggio semplicemente in oro su orizzonti temporali, come ho detto, lunghi. Bisogna considerare infatti che tendenzialmente quello che noi compravamo con 100, con 1000 euro, magari 10 anni fa, non è la stessa quantità di roba che compriamo oggi. I prezzi delle cose tendono a salire, ma non perché salgono i prezzi delle cose. Anzi, teoricamente, a rigor di logica, man mano che si va avanti diventa più semplice produrre, più veloce, c'è più robotica, c'è intelligenza artificiale, c'è veramente di tutto che rende estremamente più semplice e meno costosa la produzione. Ma allora perché il prezzo delle cose sale? Sale perché in realtà diventa sempre più debole il denaro, perché, come ho detto, è progettato per svalutarsi. Di conseguenza, nel lungo termine, tecnicamente tutto tende ad apprezzarsi rispetto il denaro, perché continua a inflazionarsi, 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 quindi cala il suo valore negli anni, nel tempo, di contrapeso tenderà a crescere il valore delle cose in rapporto del denaro. Facciamo un esempio. Immagina di comprare in questo momento, apri Gold Avenue e ti compri un lingotto d'oro da 200 euro. Tra dieci anni magari varrà 300 o magari ancora 400 euro. Perché vale di più? Semplicemente perché il valore e il denaro che hai in tasca si è svalutato. Non è che ha aumentato il peso. Io ho comprato due grammi di oro, non è che il peso di quell'ingotto è aumentato, è ingrassato. No, il peso è uguale, ma serve più denaro per poterlo comprare. Perché il denaro di dieci anni fa mi valeva, mi permetteva di comprare 200 euro di oro e il denaro di oggi si è svalutato dopo dieci anni e con quella stessa quantità di denaro nominale posso comprare meno quantità d'oro. Di conseguenza ho difeso il mio portafoglio. Facendo un salto nel futuro di dieci anni. Sono Marti! No, non posso. Ti ho appena rimandato nel futuro. Sì! No, non so che mi hai rimandato nel futuro, ma sono tornato. Sono tornato dal futuro. Grande Joe. Se da un lato avessi tenuto 200 euro in banca, continueranno ad essere quantitativamente 200 euro, ma ciò che cambia è ciò che puoi comprarci con quei 200 euro. In realtà ora ti serviranno il doppio dei soldi magari per comprare quell'ingottino d'oro da 2 grammi, perché è crollato il tuo potere d'acquisto. L'oro serve lungo termine per proteggere il proprio potere d'acquisto. Altra caratteristica importante è il dollaro USA. Il dollaro è attualmente la valuta di riferimento nel mondo. Tutti gli scambi internazionali avvengono tramite il dollaro USA. Quando il dollaro tentenna o si indebolisce, l'oro tende ad apprezzarsi. Quindi può essere molto utile guardare al debito USA, guardare al dollaro, per capire se è un buon momento per posizionarsi sull'oro o meno. Quando il dollaro è forte, l'oro tende a svalutarsi, tende a scendere di valore. Quando invece il dollaro è debole, l'oro tende ad apprezzarsi. Infine, l'ultima cosa a analizzare è la situazione geopolitica. Questo è un altro aspetto tante volte sottovalutato, ma a mio avviso estremamente importante. Tensioni geopolitiche, crisi, pandemie, guerre. Tutti questi fattori influenzano l'andamento dell'oro. Perché le persone comuni cercano un rifugio in ciò che effettivamente ha un valore, o meglio, in ciò che può avere un valore misurabile, tangibile. Un pezzo d'oro è un pezzo d'oro. Ricordiamo che l'oro è stato per millenni la moneta di scambio dell'essere umano. È stato per millenni, insieme all'argento, il fulcro degli scambi. Poi è arrivata nell'ultimo secolo la valuta fiat con tutto ciò che ne consegue. Però tutta quella roba che c'è stata prima non può essere cancellata così. C'è ancora quell'idea del tangibile. Ed ecco perché in situazioni di svalutazione del denaro, in situazioni di crisi, si teme che i pezzi di carta che abbiamo in tasca rimangano pezzi di carta. E quindi ci si posiziona su roba tangibile, appunto come oro, argento e così via. Capitolo 3. Le performance storiche dell'oro. Ma l'oro ha sempre reagito bene ai mercati? Cioè è sempre andato bene? È sempre andato su? La risposta è ovviamente no. E basta aprire un qualsiasi grafico per comprendere che non è un prezzo, un qualcosa che va sempre su. Certo, magari nel lungo termine si è dimostrato essere costantemente in crescita, ma nel breve termine ci sono gli scossoni. C'è il mercato che scende e il mercato che sale. Lo stesso vale nell'oro. Confrontiamo a questo punto l'oro con altre asset class. Azioni. Si sente dire spesso, contrapponendo oro e azioni, che l'oro non performa come le azioni, cioè non sale tanto. Ma questo non è sempre vero. Anzi, nel lungo periodo abbiamo visto che l'oro tende ad andare molto bene, superando nelle fasi di crisi le azioni, performando meno nelle situazioni di boom economico le azioni. Quindi delle volte va meglio, delle volte va peggio, però quello che interessa a noi è una statistica a lungo termine. Lungo termine l'SP500, per esempio, tende a performare un 7-8% annualizzato. L'oro invece tende a performare un 5-6%, dipende poi dalle situazioni chiaramente di mercato. Andando a soppesare gli ultimi movimenti, questa percentuale è andata chiaramente ad alzarsi rispetto a quella magari che c'era prima di un 3-4%. Quindi tendenzialmente le azioni si performano meglio dell'oro. Quindi ancora una volta qua la risposta è dipende. La cosa migliore da fare è ovviamente avere un portafoglio diversificato. Cioè una cosa non esclude l'altra. Anche perché quando le azioni vanno bene, vanno a coprirmi un po' l'andamento dell'oro. Quando le azioni vanno male, l'oro mi funziona da cuscinetto per andare ad ammortizzare le cadute e permettermi comunque di stare sul mercato. Perché ricordiamoci, stare sul mercato una volta che si è scelto magari dei titoli interessanti, realmente interessanti, e ci si è posizionati, la chiave è la pazienza. E avere un portafoglio diversificato sicuramente aiuta ad essere più pazienti. Ora prima di andare in conclusione voglio mostrarti questo grafico qui e lo andiamo ad analizzare insieme. Questo grafico mi rappresenta il rapporto tra SPX e Gold. Cosa vuol dire? L'SPX, SP500 fratto Gold. Questo rapporto può essere interessante per noi da analizzare per comprendere se l'asset, in questo caso l'oro, è sottovalutato o sopravvalutato rispetto l'azionario. E di conseguenza può essere interessante per noi andare a posizionarci. Il rapporto come funziona? Semplicemente si prende l'SP500, il valore dell'SP500 e lo si fraziona, lo si divide per il prezzo dell'oro. In questo modo io che cosa ho? Ho la quantità di oro necessaria per comprare l'SP500, una share, un'azione dell'SP500. Cosa possiamo capire da questo dato? Possiamo capire che quando il rapporto sale, quindi quando vediamo sostanzialmente il grafico che sale, tendenzialmente vuol dire che molto probabilmente l'oro è sottovalutato. Quindi ha un prezzo basso e può essere interessante andare a posizionarsi. Viceversa quando scende vuol dire che l'oro è sopravvalutato e di conseguenza ha un prezzo alto. Questo perché immagina il valore di SP500 a 100 dollari e il valore dell'oro a 2 dollari. Fai 100 diviso 2 fa 50. Chiaro è che più cresce il prezzo dell'oro, più piccolo diventa questo dato. Perché da 100 facciamo finta che l'oro passi a 5, quindi facciamo 100 diviso 5 fa 20. Vedi che sta scendendo il rapporto, man mano che scende il rapporto vuol dire che il prezzo dell'oro sta diventando più alto rispetto il prezzo del nominatore, quindi del SP500 in questo caso. Quindi ha un peso maggiore l'oro, di conseguenza molto probabilmente è sopravvalutato rispetto al mercato. Oppure è sottovalutato l'azione rispetto l'oro. Quindi questo è chiaramente un parametro interessante da analizzare ma non è che guardo allora quando scende e quando sale comprovendo. No, facciamo sempre un po' di contestualizzazione e capiamo dove ci troviamo. Però ecco può essere un dato utile per comprendere effettivamente se e quanto sia sottovalutato o sopravvalutato e di conseguenza se il prezzo dell'oro in questo momento ci permette o ci orienta verso un nuovo acquisto o viceversa verso una vendita. In questo caso vediamo che l'oro si trova in quest'area, quindi è relativamente alto il rapporto, sta per raggiungere nuovi massimi, rotti questi massimi potrebbe diventare interessante andare a posizionarsi. Quindi nonostante siamo comunque ai massimi sull'oro, vediamo che l'SP500 è andato molto su e anche l'oro è andato su, però in questa fase il rapporto come vediamo sta crescendo. Se sta crescendo vuol dire che l'azionario ha performato molto più rispetto che l'oro e vuol dire che potenzialmente l'oro rispetto all'azionario è sottovalutato. Essendo sottovalutato potenzialmente in quest'area può ancora aver senso comprare perché rotto questo livello magari raggiunto un rapporto qui, non dico qui, ma qui è potenzialmente possibile, quindi può voler dire che l'oro tenderà ulteriormente a crescere. Poi ovviamente si andrà magari a svuotare, sappiamo che il 2025 probabilmente sarà un anno recessivo, quindi potenzialmente le azioni scenderanno e allora verrà parcheggiata liquidità sull'oro. Quindi mi aspetto comunque che ci sia ancora un movimento di questo tipo, quindi ancora una crescita. Ti lascio poi linkato questo grafico se vuoi tenerlo d'occhio e appunto osservarlo. Tornando a noi è arrivato il momento di sfatare qualche mito perché in tanti mi hanno scritto nei vari video in cui ho parlato dell'oro, tanti mi hanno scritto in privato dicendomi non compro oro per tutta una serie di motivi, un po' di falsi miti che vedremo tra poco. Il primo, il più classico, l'oro è un investimento per ricchi. Poi c'è l'oro è troppo volatile e l'oro non genera reddito. In realtà non è proprio così, nel senso che l'oro è un investimento per ricchi, magari lo era fino a poco tempo fa. Attualmente ci sono tantissimi modi per acquistare oro a basso prezzo. Oro fisico magari ha un peso maggiore perché ci sono delle commissioni maggiori, però è comunque relativamente abbordabile. Per esempio su Gold Avenue puoi comprare oro fisico a partire da un grammo, un lingottino da un grammo che significa 70-80 euro al valore attuale, che è comunque accessibile. Da farsi un piano, piano piano accumulando qualcosa negli anni può essere sicuramente interessante. Se vuoi risparmiare su questi costi puoi andare sugli ETF tipo il Physical Gold che puoi tranquillamente comprare su Trade Republic. Ancora una volta delle commissioni di gestione bassissime e compri praticamente oro al prezzo di mercato. Quindi basse commissioni, d'altra parte però ti esponi al rischio di controparte. Cioè se BlackRock mi ha creato questo ETF fallisse o se ci fossero dei problemi, noi chiaramente ci andiamo ad esporre in questo caso ad un prodotto sintetico ed è comunque un po' rischioso. Così come il comprare il Pax Gold, idem, ci esponiamo all'azienda che tokenizza l'oro fisico. Quindi quello che faccio personalmente è diversifico, compro sia oro fisico sia queste soluzioni qui, quindi il Pax Gold, l'ETF e così via. Poi è troppo volatile, anche qui tendenzialmente guardando in lungo termine non è così volatile. Certo noi siamo abituati a pensare che un pezzo di carta con scritto 50 sopra e 50 rimangono, in realtà anche il denaro è volatile. E basta che vai al supermercato da una settimana all'altra e vedi i prezzi che sono diversi, magari che sono più alti o un po' più bassi. In realtà anche il costo del denaro, anche il denaro stesso è volatile. Solo che vedendo noi costantemente solo la banconota con il numerino sopra lo vediamo come fisso. In realtà neanche quello è fisso. Al di là di questo bisogna guardare il lungo termine, su orizzonti temporali lunghi come abbiamo visto l'oro tende ad andare bene. E quindi vai a eliminare un po' quella volatilità di breve termine posizionandoti lungo termine. Infine l'oro non genera reddito, vero, ma anche in questo caso dipende. Puoi esporti in oro per esempio andando ad acquistare azioni di raffinerie piuttosto che di società minerarie che estraggono oro. Di conseguenza nelle situazioni di crisi, quando c'è un po' di problema sul mercato azionario, cosa succede? Succede che l'oro tenderà a crescere, ma crescere il valore dell'oro significa che anche le azioni delle aziende che lavorano loro tendenzialmente andranno a crescere. Quindi tu andrai a prendere comunque i dividendi e questo è sicuramente un buon modo per avere rendita. Nel mondo nuovo, quello della tokenizzazione, quello delle cripto, una soluzione può essere semplicemente comprare Pax Gold su piattaforme come Nexo o Uodler e lì hai una sorta di staking perché puoi prestare il tuo oro, quindi prestare quell'asset tokenizzato e ottenere degli interessi. Questi interessi vanno nel caso dell'oro, a seconda della piattaforma, tra un 4% e un 6% annualizzato più o meno. Quindi effettivamente quell'oro parcheggiato ti genera una rendita e questo è sicuramente un altro aspetto interessante e che sta evolvendo un po' il mercato verso quella che è poi la nuova economia. Per concludere questo video, personalmente ho una buona parte del mio portafoglio in oro. Mi piace diversificare il contante, cioè trasformare gli euro in oro perché so che gli euro tendono a svalutarsi così come tutte le altre valute fiat, mentre l'oro è comunque l'oro. Senza contare che prevedo un aumento nell'utilizzo dell'oro perché fino ad oggi viene utilizzato prevalentemente nell'industria della gioielleria, in buona parte accumulato come riserva di valore nelle banche centrali, quasi tutto il resto è investimento e una parte nell'elettronica di consumo. Man mano che si va via via a sondare tutto quello che è appunto le componenti elettroniche, perché ci stiamo spostando verso una società prevalentemente elettrica, e soprattutto l'esplorazione spaziale, in queste fasi l'oro diventa cruciale, diventa essenziale. E quindi per questo che sto tenendo d'occhio l'oro con orizzonti temporali ovviamente molto lunghi. Quindi ho dato un buon peso al mio portafoglio per l'oro e l'argento proprio per questi motivi qui. Per rispondere in conclusione alla domanda se valga o meno la pena acquistare oro, la risposta ovviamente come avrai capito è dipende, dipende da te, ti ho dato gli strumenti per poter analizzare, dipende soprattutto da come ti vuoi posizionare, perché se come me ti posizioni in lungo termine, non ti interessa che l'oro sia alto o basso in questa fase, ti interessa accumularlo, parcheggiare una parte del tuo denaro, perché? Perché semplicemente credo che il denaro continuerà a svalutarsi, non credo nella valuta fiat, credo nell'oro, così come credo in bitcoin. Di conseguenza sposto una parte della mia liquidità di qua, con orizzonti temporali lunghi, quindi senza avere la pressione dell'oddio ho investito, ora il prezzo crolla, non me ne frega niente, io sono posizionato long term. Anzi se scende ne approfitto per ricomprare, quindi anche in questo caso ci vuole massima prudenza e strategia. Strategia nel obiettivo che si vuole raggiungere, comprendere su che cosa si sta investendo, analizzare su che cosa si sta investendo, gestire il proprio portafoglio, crearsi una roadmap precisa di quello che si vuole fare, quindi investo un tot in queste fasi, in questo momento, quando il prezzo fa questo piuttosto che fa quello, potenzialmente un buon DCA, un piccolo piano d'accumulo non è male. Viceversa se vuoi speculare, in quest'ottica a lungo termine ha senso inserire in portafoglio il metallo fisico, quindi l'oro o argento fisico, ti invito a guardare Gold Avenue perché è una vasta selezione e soprattutto è economico rispetto a quello che ho trovato, almeno qua in giro dove abito io, i classici compro oro. D'altra parte se invece si vuole avere un assetto più speculativo, giocare sul breve termine, non sul lungo termine, in quel caso sconsiglio di andare sul loro fisico e andare più che altro su Pax Gold piuttosto che gli ETF perché ci permettono di esporci a loro con una commissione più bassa, quindi di fatto quasi al prezzo, al valore reale, senza commissioni che vanno ad aggravare, appesantire e di conseguenza possiamo fare più speculazione di breve termine. Quindi ancora una volta dipende come ti vuoi posizionare rispetto a questo metallo. Ti invito comunque a considerare questo video come un punto di partenza, come un'analisi base di quelle che sono le cose importanti da analizzare nel mondo dell'oro, nel mercato dell'oro e da qui partire con quello che è poi tutto il tuo percorso, la tua analisi, il tuo studio e il tuo posizionamento su questo metallo. Qua sotto ti lascio tutti i link di cui ho parlato, il link di Gold Avenue per acquistare oro, argento fisico, ci sono anche Platino e Palladio volendo. Ti lascio tutti i link ai vari video di cui abbiamo parlato lungo questo video qui. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.